Buongiorno a tutti, sono Velleda Coazzoli. In questo momento si sta svolgendo Naturalmente Mantua 2022. Naturalmente Mantua è nata nel 2001. Quest'anno ci sono tantissime novità come espositori, come banchi. Sono arrivati dalla Toscana, dall'Emilia, dal Veneto, Lombardia ovviamente e anche Piemonte. Ci sono tanti operatori olistici, ci sono più di 50 e come conclusione della giornata ci sarà un bellissimo spettacolo con Lucilla Giagnoni al Teatro Ariston questa sera alle 21. Abbiamo osato e siamo stati premiati perché la partecipazione c'è, c'è un bel pubblico. È emerso proprio il piacere e la voglia delle persone di partecipare. Questa mattina abbiamo avuto tutte le palestre piene, esaurite, con pratiche yoga, stiramenti dei meridiani e in questo momento i trattamenti shatsu che sono sempre, come ogni anno, i più gettonati. Ne sono stati fatti tantissimi. Penso che siamo arrivati già a circa 80 trattamenti. quindi mi sento di ringraziare veramente tutti, i ragazzi, gli studenti, gli operatori, ma tutti. In questo momento sento veramente di dover ringraziare il mondo per poter essere qui e sentirsi veramente vivi, sentire che finalmente siamo liberi. Ringraziamo veramente tanto chi ci ha aiutato e sostenuto per poter realizzare questa manifestazione. Il Comune di Mantova, con il patrocinio del Comune, della Provincia, Coppa Alleanza.3 e anche Arci Mantova perché veramente ci ha aiutato tanto. Grazie.